Sì, non è vero. che ho ucciso la Gorgone. Non sono qui per sfidarti, Perseo. Mi serve il tuo aiuto. Il mio aiuto. Dovrai meritarlo. Il mio aiuto. Il mio aiuto. Il mio aiuto. Torna in te, Perseo. Non siamo nemici e mi serve il tuo aiuto. Vai ai Cancelli e proteggi questo luogo. Non siamo nemici. Non siamo nemici. Grazie a tutti